A giugno prender via una iniziativa davvero particolare. Sì, il 17 giugno da Rovetta e concludendosi poi a fine settembre partirà nel cuore della montagna. Una rassegna di 11 cammini geopoetici voluti dal sistema bibliotecario Valle Seriana Rete Bibliotecaria Bergamasca sul cui sito poi troverete tutte le date e le biblioteche a cui rivolgervi per iscrivervi. Per me è un'esperienza nuova nel senso che se aggiungo quei circa 200 cammini letterari che ho fatto negli ultimi 15 anni non era mai capitato di elaborare una proposta tutta su un territorio, da me conosciuto bene perché ci vivo e perché ne scrivo sul Corriere della Sera, come questa. È quindi davvero una cosa inedita, direi probabilmente non so quanti sistemi bibliotecari sul territorio nazionale abbiano fatto una cosa del genere, è molto impegnativa ma secondo me poter portare le persone a camminare, leggere il territorio, ascoltare delle letture dell'autore ma anche di altri autori che leggerò ma poi vivere anche delle esperienze all'interno del territorio, cercare di guardare tutto quello che connette la cultura, il paesaggio, la geomorfologia è una cosa che personalmente mi ha dato sempre molta soddisfazione e che vorrei poter di nuovo condividere con tutte le persone che vorranno partecipare. Saranno a numero chiuso per ovvie ragioni e poi tutti i dati li si potrà appunto trovare come ho detto sul sito della rete bibliotecaria Bergamasca ma anche sul mio o sulla mia pagina Facebook.